ciao a tutti siamo di nuovo insieme per parlare di violino e oggi vorrei parlarvi delle varie tipologie di violino violini entry level per chi si approccia per la prima volta a questo strumento spesso la gente mi chiede quale violino acquistare la prima volta quindi come primo strumento sicuramente evitare violini di fascia troppo bassa mi riferisco a violini prodotti in serie roba cinese comunque violini da 50 60 euro quelli ve li sconsiglio anche se siete principianti alle prime armi perché sono violini che possono avere dei difetti strutturali oltre che un suono terribile e studiare su un violino che non è che ha dei difetti non è non è il massimo allora vi consiglio piuttosto violini da studio sempre prodotti in serie come gli stentor ci sono diverse serie e diversi costi ma pur essendo prodotti in serie sono violini che hanno un setup manuale e una revisione manuale prima di essere messi in commercio quindi quelli piuttosto che altri violini yamaha o altre marche tedesche come geua o altri violini che comunque si attestano su un budget di 2 300 euro in su chiaramente è sempre una questione di budget perché se avete un budget a disposizione molto alto potete anche acquistare violini di alta qualità violini di liuteria ma parliamo di budget e costi da migliaia di euro come minimo ma per iniziare questi violini da 2 300 euro possono essere veramente il minimo indispensabile purché e questo è l'altro consiglio che vi do vi rivolgiate a un liutaio cercate un liutaio nella vostra zona e fate revisionare il vostro violino da studio perché probabilmente è un violino che avrà bisogno di un piccolo aggiustamento sul setup e quindi una revisione del ponticello perché magari non ha la giusta inclinazione se non addirittura una sostituzione perché potreste avere un violino diciamo da studio che però con un ponticello nuovo del giusto legno e con la giusta inclinazione sicuramente potreste guadagnare tantissimo nel sound generale piuttosto che le corde anche le corde sono un fattore di qualità del violino ci sono ad esempio in commercio le corde dominant che sono tra le migliori hanno un costo superiore a quello di corde di basso livello costano mediamente 30 40 euro dipende poi dai da dove le acquistate ma il liutaio può sicuramente darvi una mano a sistemare un po il setup generale un'altra cosa che gli utaio può fare è controllare la posizione dell'anima che è un tubetto di legno posto all'interno del violino che serve a trasmettere le vibrazioni dalla base del ponticello fino al fondo della cassa armonica e tutta una serie di operazioni appunto per la messa appunto dello strumento in questo modo vi ritrovate un violino che sicuramente suona meglio e anche lo studio è facilitato da questo ecco questi un po sono i miei consigli per chi vuole acquistare il suo primo strumento spero possano esservi utili e come sempre vi do appuntamento al prossimo video vi chiedo di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi è piaciuto e vi aspetto al prossimo appuntamento grazie grazie a tutti